ciao bentornato oggi voglio insegnarti un trucchetto per calcolare certe derivate in modo molto più veloce si chiama metodo della derivata logaritmica per applicarlo basta conoscere le normali regole di derivazione che sono date come prerequisiti quindi la derivata del prodotto di funzioni del rapporto di funzioni e delle funzioni composte e poi devi ricordarti le proprietà dei logaritmi quindi diciamo i prerequisiti sono molto semplici infatti se tu dovessi derivare questa funzione in modo tradizionale in teoria è semplice di fatto è complesso perché devi fare un sacco di passaggi verrà una funzione estremamente lunga e corposa e poi sarà anche complessa da semplificare molto lungo da raccogliere dei termini a fattore comune insomma ci va a mezz'ora invece con questo metodo si fa abbastanza velocemente procediamo col calcolo a sinistra abbiamo la funzione e come primo passaggio applichiamo il logaritmo naturale ad ambo i membri che cosa serve a fare questo perché il logaritmo naturale trasforma i prodotti e le divisioni nell'argomento in somme e sottrazioni tra logaritmi inoltre le potenze possono essere estratte diventano fattori le classiche regole dei logaritmi quindi applichiamo queste regole allora l'esponente 4 viene estratto abbiamo 4 per il logaritmo naturale di x alla seconda meno 4x intanto la radice quadrata di una quantità alla terza l'ho trasformata come un esponente di 3 mezzi quindi diventa 3 mezzi logaritmo naturale di x più 3 meno perché c'è diviso quindi diventa meno 5 logaritmo naturale di 2x alla terza più 6 a questo punto possiamo derivare la derivata però è molto più semplice perché avendo solo somme e sottrazioni basta derivare i singoli pezzi ricordiamo la regola di derivazione di una funzione composta dato che la derivata del logaritmo naturale di x è 1 su x la derivata del logaritmo di f di x sarà 1 su f di x per la derivata della funzione interna quindi per f primo di x applichiamo questa regola e otteniamo 4 perché è una costante fratto f di x quindi fratto x alla seconda meno 4x per la sua derivata quindi per 2x meno 4 applichiamo la stessa regola anche agli altri termini e otteniamo questo risultato a primo membro abbiamo il logaritmo naturale di y ma y non è altro che f di x scrivere y o f di x è la stessa cosa quindi verrà y primo fratto y cioè ho applicato questa regola come scrivere f primo fratto f a questo punto ho la mia derivata perché qua ho y primo quindi basta spostare la y a secondo membro mettendoci una bella parentesi ovviamente e ritrasformiamo la y che è la mia funzione iniziale con l'espressione che avevamo all'inizio e quindi si ottiene che y primo è uguale a tutta sta roba qua ed è anche già un po scomposta in fattori poi chiaramente sarà ancora da semplificare dentro questa parentesi ma è decisamente più semplice di come sarebbe venuta se avessimo seguito le classiche regole di derivazione il video è terminato sul mio canale trovi tante playlist di matematiche fisiche organizzate per argomenti se ti è piaciuto puoi iscriverti al canale cliccando sul cerchio in alto a sinistra ciao e grazie